let's get it boys sono il powerone nazionale e sono qua con un video diverso dal solito niente estratto dalla live niente streaming una cosa diversa oggi volevo parlarvi qualcosa che a cui tengo molto farvi capire specialmente su chi magari non mi riesce a seguire in streaming o non sa cos'è lo streaming o non capisce cosa faccio allora principalmente io sono sono uno streamer non è il mio lavoro è un divertimento è una cosa che mi piace fare perché perché il 23 maggio mi sono ritirato dalle competizioni e ci sarebbe tanto da dire da spiegare perché mi sono ritirato mi sono preso una pausa non so nemmeno io quale delle due al momento sappiate però che essendo italiano e vivendo in italia competere da italiano è una delle cose più difficili da fare a volte nemmeno si riesce ad arrivare dove uno magari merita di stare o dove dovrebbe stare perché questo perché in italia non abbiamo le infrastrutture adeguate non ci sono dei veri e propri campionati non c'è la possibilità di allenarsi per bene qui in italia non ci sono eventi di alto calibro e non ci sono sponsor che investono in questo mondo questa è la verità non sono cazzate ci sarebbero tantissime altre cose a dire riguardo questo argomento magari ne parlerò in futuro ho fatto questo video perché volevo parlarvi di cosa significa per me streamare ho iniziato a streamare circa tre anni fa quando ho ricevuto la partner con twitch su advanced warfare su call of duty non era la mia occupazione principale non facevo solo streaming giocavo in dei team competitivi semi professionistici eccetera eccetera e non ho mai pensato che twitch potesse diventare qualcosa di serio attualmente ho dei numeri paurosi vuoi perché sto portando fortnite vuoi perché sto giocando con personalità influenti del mondo di youtube e twitch lo so benissimo e sono cosciente anche di questo come so benissimo che cambiare gioco andare a fare qualcos'altro non porterebbe lo stesso risultato proprio per questo non riesco a vedere twitch come un lavoro perché perché nonostante uno possa avere magari grandi guadagni sono solamente cose temporanee su twitch non puoi mancare qualche giorno che la gente si dimentica si scorda di te quindi perdi diciamo tutto quello non può essere un'occupazione fissa almeno per ora in italia perché non è molto conosciuto per me è un divertimento è una cosa che occupa il mio tempo se non ci fosse twitch se non fossi ogni giorno a intrattenervi come dico sempre faccio la diciamo la metafora di un gladiatore all'interno dell'arena che più persone ci sono sugli spalti più lui eccede più lui vi fa vedere il sangue chiamiamolo così più più io mi porto al limite cerco di superare diciamo il mio limite e così via quello che ci tengo a fare con twitch è di portare un cambiamento ci sto investendo tanti soldi che sono i guadagni di twitch nel cambiare varie parti nel cercare di darvi uno streaming sempre più di una qualità paurosa non solo a livello video e audio ma anche a livello di gioco di interattività di cose che si possono fare infatti il 25 aprile ci sarà un cambiamento radicale drastico proprio del canale che vedrete un refresh quello che vi voglio dire è che mi piace fare twitch l'ho fatto quando avevo 10 views l'ho fatto quando avevo 100 500 ora 1000 e così via non se un tempo i numeri mi facevano cambiare l'umore perché è vero quando magari sub scendevano quando magari non c'erano tante views su altri giochi che portavo ma allo stesso tempo sono maturato sono cresciuto grazie allo streaming non sono più introverso come era un tempo sono diventato addirittura logorroico bisogna dire questo e niente proprio per questo amo fare amo fare lo streaming mi piace il contatto che ho con voi mi piace il fatto che cercate sempre di tenermi positivo energico eccetera eccetera come sono io quando mi siedo qui davanti e non è facile a volte specialmente quando le cose magari non vanno bene nella vita privata quando uno ha dei problemi al lavoro e così via perché sì io ho un lavoro vero e proprio con contratto indeterminato e tutto il resto twitch è una cosa che amo fare e forse pure magari un po del successo di tutto questo perché le cose lo faccio bene anche perché non lo vedo come un lavoro quindi non sono stantio però non potrò mai penso attualmente vederlo come un lavoro sia perché i numeri in italia sono molto piccoli rispetto all'estero sia perché come ho detto in precedenza cambiando gioco andando a fare qualcos'altro le persone non seguono sfortunatamente la personalità la persona avere proprio con i giorgio power perché alla fine sono la stessa persona non ho una maschera sono sempre lo stesso per chi mi ha conosciuto dal vivo lo sa ma seguono il gioco come detto quindi non seguono la persona e quindi non penso possa essere una cosa diciamo che non possa diventare un lavoro allo stesso tempo i giochi io sono una persona che quando un gioco lo stufa quando non non si sente più appagato da un gioco lo cambia e gioca un altro gioco e so benissimo di avere una forte personalità e di farvi divertire di essere in grado di farvi divertire su vari giochi anzi penso che sul mio canale come vedete c'è sempre un gioco principale come è stato overwatch poi pubg poi fortnite non so cosa ci sarà tra qualche mese o tra qualche settimana addirittura tra qualche giorno e poi condisco il tutto con vari giochi diciamo a secondari no però altri giochi che porto che mi piace portare per passare del tempo con voi perché magari quei giochi non li porterei se gioca cioè se non se non strimmassi o comunque in generale io non penso che giocherei videogiochi così tanto se non strimmassi è proprio perché mi diverto quello che faccio sempre il sorriso stampato in faccia e e così via e stranamente le live di più successo sono state quelle su giochi come super seducer come we were here sea of thieves eccetera eccetera che hanno riscosso veramente un gran successo perché vedevate un'altra parte di me un'altra un altro giorgio ed è quella la cosa bella twitch alla fine è connessione è share qualcosa con le persone che ti guardano ci tengo a essere sempre professionale sul pezzo perché vorrei portare dei contenuti più di alto livello più sullo stile americano comunque internazionale perché penso che ce ne sia il bisogno su twitch vedendo twitch in italia sfortunatamente ci sono persone magari o poco professionali o che comunque non fanno le cose in modo serio e professionale come dovrebbero perché magari si accontentano di quello che hanno io non mi accontento sono sono fatto così non mi fermo mai e cerco sempre di trovare quella cosa da fare in più di di essere sempre un passo avanti agli altri e niente ci tenevo a farvi questo discorso e poi soprattutto ci tengo a dirvi una cosa io ogni volta che mi siedo qui davanti allo schermo per streammare sono veramente felice di farlo perché perché passo del tempo con voi perché voglio condividere qualcosa quelli che sono magari gli insegnamenti o comunque la crescita che ho avuto come persona nel campo del mondo professionistico dei videogiochi quindi da giocatore professionista sia allo stesso tempo voglio condividere con voi positività ed energia perché ogni volta che io mi siedo qua chiedo mi chiedo faccio una domanda a me stesso perché una persona dovrebbe guardare me invece di guardare un altro streamer o non dovrebbe giocare a un videogioco a cui io sto giocando per guardare me e questa è una domanda che mi fa pensare sempre a cosa posso fare come posso muovermi e così via non è facile ogni volta cercare sempre di non essere stantio ripetitivo e così via però lo streaming è anche questo è affezionarsi a una persona a quello che uno fa eccetera eccetera e niente quindi questo qui era un messaggio che vi volevo lasciare ci tenevo veramente tanto che voi capiste qualcosa in più su quello che faccio e perché lo faccio magari tra un anno lascerò il mio lavoro e Twitch diventerà la mia occupazione principale ma non lo so questo non lo so sono ho tante domande che mi sto facendo in questo momento voglio andare a vivere da solo a vivere da solo con la mia ragazza che è una delle prime persone che mi motiva a fare questa cosa dello streaming nonostante non è la mia occupazione principale e nella mia testa ci sono tante domande che mi sto facendo perché ovviamente magari ora sono una moda passeggera magari se portassi altri giochi non sarei come sono diciamo non avrei questo successo quando dovrò magari staccare un po di più dalle live cosa accadrà magari proprio perché mi dovrò trasferire a milano e niente quindi ci sono tante domande che mi faccio in questo momento e fortunatamente non influiscono su quello che faccio in streaming e lo state vedendo ogni giorno che prendo mi collego sono super energico sembro un pazzo sotto metanfetamine e cocaina mischiata assieme che urla grida vi fa divertire fa battute eccetera eccetera quindi siamo penso alla fine del video spero vi sia piaciuta questa cosa abbiate capito magari chi mi conosce da poco qualcosa in più su di me su chi sono per chi non l'avesse già capito magari tramite lo streaming io vi saluto il vostro power non paura nazionale stacca chissà magari ora sono in streaming bella boys ma ce l'ho a tutti e ne sghiere ma ce l'ho a tutti e non poverà uno